In questi giorni stiamo assistendo alla quasi rottura del terzo polo con la lite tra Calenda e Renzi. Qui non troverete contro nessuno due piccioncini. Quando c'è l'amore c'è tutto. Ricordiamo che il sindaco ha aderito a Azione e ha nominato un assessore riferibile a Italia Viva. Avrà refluenza questo sull'amministrazione comunale di Mazzara? Ma io dico proprio di no assolutamente. L'alleanza con Italia Viva è un'alleanza forte che è fondata su valori, su elementi programmatici per questa nostra città. Io dico, se mi consenti una battuta, che due partiti, così come sono tutti i partiti oggi in Italia, personalistici, legati ai loro leader, Calenda per Azione e Renzi per Italia Viva. Perché Azione è Calenda, Italia Viva è Renzi. Per quale motivo è venuta questa malsana idea di fare il partito unico? Si occupi questo spazio importante che è lo spazio dei liberal democratici. Serve un partito liberal democratico, magari intorno al 10% in Italia, nel quale io mi ritrovo. E insieme, mantenendo la propria personalità, perché abbiamo due personalità totalmente diverse, insieme continuiamo a lavorare in questo spazio. È possibile? A Mazzara lo stiamo facendo. Per essere brutali, quindi l'assessore Francesco Di Liberti non corre al su, al comperico. Ma assolutamente. Noi abbiamo il progetto di governare questa città per questo scorcio di sindacatura e anche per il futuro. Ragazzi, insieme a Carlo, con la guida di Carlo Calenda, dobbiamo salvare il paese. Ragazzi hanno fatto un giusto di grandissima generosità.